Questa operazione è un'operazione di polizia economico-finanziaria, cioè il nuovo modo di lavorare della Guardia di Finanza, quindi non più solamente polizia delle tasse, ma polizia che controlla contemporaneamente all'aspetto fiscale anche l'aspetto del movimento dei capitali e contemporaneamente del mercato. Un'operazione complessa, quella portata avanti dalla Guardia di Finanza di Arezzo, che ha portato a scardinare un sistema di società sostanzialmente fittizie, scatole vuote, che avevano poi la loro sede nei paradisi fiscali, un sistema messo in piedi da coloro che avevano ovviamente la principale intenzione di evadere il fisco. Nell'operazione Paradiso sono stati ricostruiti i passaggi di un sistema che consentiva di evadere le tasse e creare reddito per le società apparentemente legali. Le somme venivano tolte dalle società attraverso rimborsi e finanziamento socio fittizi. Poi i soldi finivano all'estero e le società venivano fatte fallire. 34 le aziende finite nell'inchiesta, 7 con sedi all'estero. Il MaxiBlitz ha portato al sequestro di oltre 25 milioni di euro tra beni e marchi. Aziende di punta del settore tessile e vitivinicolo, noti imprenditori, sono finiti ai domiciliari. Si tratta di Antonio Moretti, 67 anni, del figlio Andrea della tenuta Sette Ponti. Paolo Farsetti, responsabile della produzione per il marchio Pull Love e un ragioniere, Marcello Innocenti. Oltre 12 milioni di euro tra IVA e altre tasse evasi, altri 9 soggetti sono stati interdetti dall'attività imprenditoriale e 3 sono indagati. Alcuni non dichiaravano proprio niente, infatti veniva stata contestata anche l'omessa presentazione della dichiarazione. Altri invece presentavano una dichiarazione a credito nei confronti dello Stato di 2.000 euro. Nel corso delle indagini c'è stato anche il tentativo di avvicinare i finanzieri impegnati nelle verifiche fiscali. Ma questo tentativo di cercare un contatto non è andato a buon fine. Lasciatemi dire con soddisfazione che possiamo dire che possiamo aver accertato e documentato una totale impermeabilità di queste cose.